Molto spesso si tende a tralasciare una parte fondamentale nella stampa 3D, ovvero la qualità dei singoli componenti. Ma come può influire sulla accuratezza, affidabilità, ma soprattutto quali sono gli elementi più critici? Beh, lo andremo a scoprire subito dopo la sigla. Anni fa, quando stavo assemblando la mia storica Prusa Mark III, mi imbattei in un grosso problema che, all'epoca, non riusciva a venirne fuori. In parole povere, la stampante funzionava perfettamente sia a livello di movimenti che di elementi riscaldanti. L'elettronica non aveva alcun tipo di anomalia e di per sé sembrava tutto a posto. Nonostante questo, non riuscivo a portare a termine nemmeno una stampa. O meglio, provando e riprovando, i risultati cambiavano, anche se tutti facevano abbastanza schifo. A volte smetteva di estrudere, altre volte lasciava molti buchi nella stampa e altre volte andava un po' meglio. Per sbaglio. Alla fine dei conti, mi ritrovavo quasi sempre a stampare con la mia affidata Mega di Anycubic, ma dopo tutti i soldi e il tempo perso per la Mark III, onestamente mi urtava parecchio. L'unica cosa di cui avevo dei dubbi era il gruppo Hotend, ma con la mia esperienza dell'epoca non pensavo che potesse essere qualcosa di così tragico. A quel punto ho iniziato a studiare a modo l'Hotend, quindi come funziona dal punto di vista termico, eventuali problematiche e soprattutto come i vari elementi vanno ad interagire con la fusione del filamento. Morale della favola, il kit del carrello era talmente di pessima qualità che Elite Breaker non faceva correttamente il suo lavoro, andando a disperdere il calore prodotto dal blocchetto nella parte superiore della gola, che a condizioni normali dovrebbe essere dissipato per l'appunto dal dissipatore, ma anche in questo caso la qualità dei materiali era talmente terribile che non lo faceva. Quindi, questo andava a deformare il filamento prima di entrare nella camera di fusione del nozzle, rendendolo più largo rispetto al foro del Elite Breaker, andando a causare tutte le problematiche dette. Questo fenomeno, in gergo, è chiamato Heat Creep. Ovviamente oggi sarebbe una cosa tutto sommato semplice e intuitiva da risolvere, ma, come al solito, all'epoca mi mancava l'esperienza necessaria per determinarlo con sicurezza. E non avevo troppi soldi da spenderci. Insomma, dopo esser giunto a questa conclusione, ordinai uno Tend V6 completo direttamente dal sito E3D, e una volta installato, beh, è ancora qui dietro montato, nonostante tutti i filamenti che gli sono passati dentro. Morale della favola? Se avessi acquistato un prodotto di qualità sin dal principio, non sarei cascato in questo loop di perdita di tempo, ma soprattutto di testa. Questo perché la qualità dei materiali utilizzati, l'ingegnerizzazione che ci sta dietro e le tecniche di assemblaggio sono fondamentali per far sì che tutto funzioni a puntino. Concettualmente acquistai uno Tend V6, un po' a caso, da Aliexpress, pensando potesse andare bene. Anche perché, boh, è metallo, sicuramente funziona ed è uguale a quell'originale. La ditta che lo ha prodotto ha preso direttamente il progetto di E3D e lo ha riprodotto direttamente senza tener conto che determinati spazi e geometrie dell'originale erano tarati per funzionare con materiali che garantivano determinate caratteristiche tecniche, ma soprattutto termiche. Ovviamente questi materiali non sono stati rispettati, anche perché alcuni sono decisamente costosi, e di conseguenza è successo un patatrack. Perché uno dei problemi della stampa 3D è che ci sono davvero tanti, ma tanti, cloni. Pensate all'estrusore Titan, usatissimo ad esempio da Anycubic nelle loro stampanti. Non è altro che sempre un altro clone di E3D con una qualità inferiore. Funzionano? Sì, però la qualità non è paragonabile. Poi, per carità, ci sono cloni che comunque non sono al top come l'originale, ma perlomeno in condizioni normali funzionano, oppure hanno meno durata nel tempo. Un esempio di buoni prodotti cloni per un uso amatoriale che ho usato anch'io possono essere quelli di Triangle Lab. Molto spesso però mi sono sentito dire che non sono buoni, funzionano male, eccetera eccetera. C'è da fare una piccola precisazione però. Questi brand a volte non risparmiano solo sui materiali e le componenti utilizzate, bensì soprattutto sul controllo qualità. Concettualmente io comprai la Anycubic Mega a casissimo, e completamente originale, sempre andata perfettamente. Di contro, molti altri hanno avuto svariate problematiche con questa stampante. Quindi è la stampante che fa schifo, oppure il controllo qualità che è un po' così e così, ovviamente escludendo l'uso inesperto o in proprio. Ovviamente è una via di mezzo, perché il caso in cui al cliente finale arrivi una stampante difettata, esiste come per qualsiasi altro prodotto. La percentuale di possibilità che succeda è diversa, ovviamente in base a quanto il controllo qualità è rigido. Però considerate che più il controllo di qualità è rigido e più costa l'azienda, perché ovviamente il tasso di rimbalzo dei prodotti è più alto. Infatti, un altro esempio che faccio spesso è il paragone tra la Ender 3 S1 e la Prusa Original Mark 3S. La Ender è un'ottima macchina, veramente ben riuscita e secondo me ad un prezzo anche competitivo. Non mi ha mai dato problemi ed è sempre rimasta 100% originale. La qualità e l'affidabilità della mia è sempre stata assolutamente paragonabile a quella della Prusa. Costa molto di meno rispetto alla Mark 3S, quindi perché dovrei scegliere quest'ultima e perché io stesso l'ho fatto e continuo a consigliarla? In sostanza, oltre all'ecosistema che ci sta dietro, i pezzi di ricambio, il fatto che comunque è open source, voi state comprando anche un buon controllo qualità alle spalle. Diciamo che difficilmente vi arriverà un prodotto non funzionante di casa Prusa. Non dico assolutamente che non accade, ma sicuramente è meno probabile rispetto ad un brand come Creality che comunque è tra i più buoni su questa fascia di prezzo. Allo stesso tempo ci sono aziende che magari prendono spunto da qualche prodotto già esistente, lo migliorano e ne producono dei ricambi di ottima qualità, come ad esempio Masp Solutions. La loro marcia in più è quella di creare prodotti dalle ottime prestazioni, compatibili con gli standard che troviamo sulle varie stampanti 3D, il tutto a buon mercato, rimanendo comunque un prodotto made in Italy. Un piccolo esempio che mi hanno mandato è questo hotend compatibile con la struttura V6 tradizionale, però ha delle chicche sicuramente molto interessanti per molti di voi. Come vi accennavo sicuramente la qualità dei materiali è decisamente elevata e uno dei loro punti cardine è la gola bimetallica. Praticamente in genere utilizzano un core centrale in lega di titanio e una parte esterna in rame. Questa accoppiata permette di dividere efficacemente la parte calda del gruppo estrusione dalla parte fredda, o che comunque dovrebbe essere fredda, andando a diminuire drasticamente le problematiche dovute ad un errato scambio termico, come ad esempio l'Eat Creep, capitato con la mia Mark III autocostruita. Producono vari hotend per le stampanti come la Artillery, la Ender III tradizionale, le Delta di FLSAN, ma anche molte altre. Vi lascio qui sotto in descrizione comunque il link al loro store online. Recentemente ho anche ricevuto un paio di prodotti un pochino più specifici da parte di Drop Effect, una azienda che collabora con Festus nella produzione di hotend ed estrusori. Inizialmente avevo ricevuto soltanto il loro hotend completo e avevo iniziato a progettarci una staffa dedicata per il carrello dell'Ender III. Volevo un estrusore che fosse sicuramente dual drive, compatto e leggero da poter essere messo con una modalità direct sostanzialmente, senza gravare però su accelerazioni o simili. La scelta ricadde sull'Orbiter Extruder di BQ, che a mio parere è un brand che produce parti per stampanti 3D con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo Orbiter è dotato di doppia ruota godronata, di trascinamento del filamento, prodotta direttamente da Bontech. Il tutto pilotato da un motore targato LDO, anche se un ottimo brand. L'ho scelto perché è veramente super semplice da integrare col DropEffect XG, oltre che per le sue ottime caratteristiche tecniche, come ad esempio l'affidabilità e la leggerezza. Dopo qualche giorno, a mia inseputa, DropEffect mi invia un altro pacchetto contenente il loro estrusore effettivo. Quasi interamente fatto in alluminio anodizzato, tutto lavorato al CNC, porta filamento vicinissimo alla ruota godronata perfetta per i filamenti flessibili, doppia ruota di estrusione, non so di che marca, ma sembra di ottima, ottima qualità, oltre che un motore Moons, anche se niente male. Questo è un po' un appunto personale, ma apprezzo un sacco l'estetica di questo estrusore. Se l'avessi saputo, non avrei certo comprato il BQ. No, scherzi a parte, sono contento di aver messo le mani su entrambi i prodotti perché toccarli con mano è fondamentale per capirne la vera qualità. Secondo me sono abbastanza simili come caratteristiche, forse qualcosina meglio questo di DropEffect, un po' a discapito del peso che ovviamente avendo la struttura quasi interamente in metallo è più alto rispetto al BQ. Altri tre componenti da non sottovalutare comunque in una stampante sono cinghie, motori e guide lineari. Le cinghie di buona qualità devono rispettare determinate caratteristiche per prevenire ad esempio l'usura, oltre che devono essere sufficientemente rigide, quindi non elastiche, se no i movimenti degli assi diventerebbero molto wobbly wobbly. Stessa storia i motori. Gli stepper da un tanto al chilo avranno concettualmente magneti e cuscinetti magari non al top, oppure degli avvolgimenti delle bobine magari non perfetti. Insomma tutti i fattori che poi si vanno a ripercuotere direttamente sulla qualità e l'affidabilità della stampante 3D. Ultimo, ma non per ordine di importanza, le guide lineari. Ormai vi ho parlato fino allo sfinimento di movimentazioni lineari nel corso degli anni qui sul canale, ma se ci pensate sono uno dei punti più cruciali della stampa 3D. Ovviamente se le componenti come i cuscinetti o le guide stesse non fossero di buona qualità, potrebbero portarvi a delle problematiche che sicuramente si vedranno sulla stampa finita. Scegliere cuscinetti lineari e guide di marca vi porta ad avere concettualmente tolleranze migliori e un'ottima affidabilità, sempre al patto di tenerle in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Ci tenevo davvero tanto a fare questo video perché comunque alla fine è un aspetto che spesso si tende a tralasciare, ormai con Amazon siamo abituati a comprare un po' ad un tanto al chilo più o meno tutti i prodotti, però quando si cerca qualcosa di un pochino più specifico non è detto che si trovi lì. Roba di questo tipo difficilmente diciamo si può trovare su Amazon, bisogna un pochino scavare nell'internet per cercare i prodotti migliori. Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate voi o se aveste comunque domande sulla faccenda, mi raccomando qui sotto nei commenti. E niente ragazzi il video di oggi finisce qui, spero tanto che vi sia piaciuto, mi raccomando se così fosse lasciate un grande mi piace, iscrivetevi, commentate, mi fa sempre un sacco piacere e ci rivediamo ad un prossimo video.